Proprio in questi giorni, un anno fa, Don Paolo Camminati, parroco di Nostra Signora di Lourdes, lanciava il progetto di una casa di accoglienza per lavoratori precari. Il 21 marzo il Covid se l'ha portato via, lasciando sgomenta alla comunità che nei mesi successivi sia data da fare per realizzare il suo sogno. Da pochi giorni all'ex canonica sono iniziati i lavori di ristrutturazione di quella che diventerà la casa di accoglienza, che sarà intitolata al parroco scomparso. Gli ospiti, indicati da Caritas, saranno uomini di età compresa tra 18 e 67 anni, potranno restare tra 2 e 18 mesi. La struttura sarà pronta in autunno. Prevede sette posti letto, con la possibilità di dare agli ospiti non solo un letto, ma soprattutto una famiglia, persone che saranno accolte da volontari, perché non sia soltanto un luogo caldo dal punto di vista della temperatura, ma soprattutto un luogo caldo dal punto di vista degli affetti. Gli ho detto, guarda Don Paolo che c'è un'ala della parrocchia che ha ancora da ristrutturare, dico, prima che tu vada via, ma intendevo in un'altra parrocchia, dico, ti do una mano per sistemarla. Purtroppo è andato via in un altro modo e è per questo che ci stiamo adoperando tantissimo per il suo ricordo. La ristrutturazione del costo di 261 mila euro è finanziata con fondi parrocchiali e donazioni che proseguono sul conto della parrocchia stessa. Il progetto è inserito nell'accordo insieme Piacenza promosso da Caritas.